Presidente, come ho detto nella discussione generale, noi in Commissione abbiamo portato un testo a fronte anche con gli emendamenti in rosso, però magari non ce l'abbiamo tutti qui in aula, quindi leggerò tutto il passaggio della delibera così come l'abbiamo modificato con l'emendamento. Era prevedere per la parte di housing pubblica la destinazione di quote di unità immobiliari a nuclei familiari in emergenza abitativa. Quindi nella prima stesura non c'era scritto il quanto, quindi era lasciato in maniera generica. Con l'emendamento invece abbiamo voluto precisare, questo magari rispondo anche a una cosa che aveva detto la consigliera Celli, in discussione generale siamo andati proprio a voler dare un'indicazione numerica precisa di quanto della quota pubblica di housing deve essere destinato ai nuclei in emergenza abitativa. Abbiamo deciso di destinare un 30%. Grazie.